Sbantellata rete di spacciatori, si ordinava online e la droga arrivava in bici, 18 arresti nel regime. Arrestato il liquidatore di Nautilus, accusa di peculato e sequestro di beni per oltre 860 mila euro a Vivo Valencia. Valdolato si candida al Borgo dei Borghi 2024. Il generale dei Carabinieri Andrea Rispoli presenta il libro Il riflesso degli eroi a Reggio Calabria. Ben ritrovati con l'informazione di Calabria TV. Una rete di spacciatori che operava nella piana di Gioia Tauro, grazie a comunicazioni fatti attraverso Telegram e altre app, è stata scoperta dai Carabinieri. 18 misure cautelari. Un'attività di spaccio che neppure le restrizioni per il Covid avevano interrotto è stata scoperta dai Carabinieri nella piana di Gioia Tauro, grazie alla denuncia di un padre impotente di fronte alla dipendenza della figlia. 18 le misure cautelari eseguite dai Carabinieri il comando provinciale di Reggio Calabria nei confronti di altrettanti soggetti che utilizzavano Telegram e altre app di messaggistica per mettere in contatto spacciatori e clienti finali di droghe leggere e pesanti, con un giro d'affari stimato in oltre un milione di euro. Le indagini sono cominciate nel marzo del 2020 dopo la denuncia del padre esasperato che impotente di fronte alla dipendenza della figlia si era rivolto ai Carabinieri della stazione di Tauria Nova, cittadina dove aveva base l'attività di spaccio, con ramificazioni a Rosarno, Platì e Gerocarme. In quel periodo, essendo in atto alcune restrizioni dovute al Covid, per ridurre il rischio dei controlli, gli indagati avevano iniziato a consegnare lo stupifacente in bicicletta anziché con le auto e consegnavano direttamente la droga presso l'abitazione degli acquirenti. Per mantenere i contatti con questi ultimi, visto il divieto di assembramento, tutte le comunicazioni venivano effettuate online con canali Telegram o con altre app di messaggistica, dedicati proprio a far incontrare la domanda e l'offerta di narcotico. Sono almeno 50 gli episodi di spaccio che hanno rilevanza penale e che sono stati accertati, con 9 arresti in flagranza di reato. Durante le indagini è stata anche rinvenuta una piantagione di canapa indiana ricavata in un bunker occultato in un capannone agricolo. Lì, tre metri sotto terra, gli indagati avevano allestito degli impianti idroponici, completi di sistemi di riscaldamento, ventilazione e illuminazione a lampade UV, destinate alla genzione di varie cultivar di canapa indiana, differenziate per il potenziale di induzione alla sue fazioni. L'indagine inoltre ha fatto luce anche sui maltrattamenti che una moglie o una figlia di uno degli arrestati hanno dovuto subire per anni in silenzio, costrette a vivere recluse, quotidianamente umiliate e più volte malmenate. Arrestato il commissario liquidatore della società cooperativa Nautilus con l'accusa di peculato. Insieme ad altri si sarebbe appropriato di 864.396 euro della società. La società cooperativa Nautilus, per anni una delle eccellenze del Vibonese, nel 2014 veniva messa in liquidazione coatta amministrativa e nello stesso momento veniva nominato un commissario liquidatore che doveva compiere tutti gli atti e le attività necessarie alla liquidazione del patrimonio della società in modo da ottenere il denaro necessario da ripartire tra i creditori concorrenti. A distanza di dieci anni le forze dell'ordine hanno scoperto come il commissario liquidatore nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico si sia appropriato di ingenti somme di denaro della procedura concorsuale attraverso assegni e bonifici, apparentemente privi di giustificazioni, sia in proprio favore che a beneficio di un'altra persona, nonché di una società riconducibile al suo nucleo familiare. In particolare dagli accertamenti svolti è emerso che il professionista aveva aperto due conti correnti intestati alla Nautilus, di cui uno solo veniva reso noto al Ministero dello Sviluppo Economico e tramite questi conti correnti effettuava importanti movimentazioni di denaro senza fornire alcuna rendicontazione né documentazione giustificativa, procurandosi così un indebito vantaggio economico per sé e per gli altri soggetti indagati, causando al contempo un danno patrimoniale alla società in liquidazione e ai suoi creditori. Ora le fiamme gialle della sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Vibo Valencia hanno messo l'uomo agli arresti domiciliari per il reato di peculato e hanno sequestrato beni per un ammontare pari a 864.396 euro, finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di due persone e di una società operante nel settore dell'elaborazione dati. Nelle province di Napoli, Salerno, Potenza e Catanzaro, il personale della Direzione Investigativa Antimafia e del Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica di Napoli hanno dato esecuzione a 11 misure cautelari nell'ambito di un'indagine su un traffico internazionale di rifiuti speciali tra l'Italia e la Tunisia. Un funzionario della regione Campania è agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della Procura Distrettuale Antimafia di Potenza che ha portato alla scoperta di un traffico illecito di rifiuti tra l'Italia e la Tunisia. Un traffico che nel 2020 ha portato nella paese del Nordafrica oltre 8.000 tonnellate di rifiuti stipati in 70 container. Nell'inchiesta sono coinvolti anche intermediari, imprenditori, titolari di aziende di trattamento recupero, società di intermediazione e funzionari pubblici. I reati ipotizzati sono quelli della traffico illecito di rifiuti fittizia, intermediazione di beni, gestione illecita di rifiuti e realizzazione di scarica abusiva a frodi delle pubbliche forniture. In sostanza il traffico di rifiuti aveva come esito finale l'incendio degli stessi o il loro abbandono in interramento in Africa. Tutto basato su un contratto firmato il 30 settembre del 2019 a Polla in provincia di Salerno tra una società campana e una tunisina per il trasporto in Africa di 120.000 tonnellate di rifiuti. Nell'intesa erano coinvolte anche due ditte di intermediazione, una con sede a Soverato in provincia di Catanzaro, l'altra in Tunisia. In Italia le indagini hanno scoperto un complesso sistema attraverso cui è stato organizzato un ingente traffico illecito di rifiuti, reso possibile tra l'altro dalla concessione di due autorizzazioni rilasciate dall'ufficio di Salerno della regione Campania. L'impianto tunesino che ricevette le quasi 8.000 tonnellate di rifiuti fu interessato da un incendio che le distrusse buona parte. In base ad un accordo di cooperazione fra Tunisia e regione Campania, i container pieni di rifiuti sono stati ritrasferiti in Italia. I consulenti che li hanno esaminati hanno accertato la non corrispondenza della qualità di rifiuti in sequestro al codice di riferimento dichiarato dall'esportatore. Dopo anni di commissariamento finalmente il comune di Taurianova ha presentato il bilancio di previsione, un ritorno alla normalità. Passa maggioranza il primo bilancio di previsione a trazione amministrativa del comune di Taurianova dopo sei lunghi anni di gestione commissariale. Con il dissesto economico e finanziario ormai alle spalle dichiarato nel 2017 e terminato il 31 dicembre 2023, l'ente ha ripreso pienamente possesso delle sue prerogative di indirizzo e programmazione in ambito economico e finanziario. Un ritorno alla normalità non privo di criticità e pericoli come evidenziato dal sindaco Roibiasi nel corso del suo intervento. Il bilancio ha trovato l'astenzione del consigliere di Forza Italia nello Stranges e il voto contrario dei consiglieri appartenenti al gruppo Fratelli d'Italia Daniele Prestileo e Filippo Lazzaro, ancora una volta critici, nei confronti dell'amministrazione. Assenti i consiglieri di minoranza Fabio Scionti e Raffaella Ferraro del gruppo Azione e Simone Morafioti del Partito Democratico che avevano chiesto uno slittamento dei lavori in seconda convocazione. Questo bilancio di previsione è il primo di natura amministrativa dopo l'uscita del comune dal dissesto ha affermato con soddisfazione il primo cittadino Roibiasi. Confermare in questo quadro le aliquote massime per Imo e addizionale comunale IRPEF, quindi il lungo elenco di attività messe in campo dall'amministrazione e gli impegni per il futuro, un ragionamento racchiuso da Biasi nell'illustrazione del documento unico di programmazione. C'è grande coerenza tra il nostro programma elettorale e i contenuti del DUP e i risultati ottenuti. In questi anni di lavoro ha scandito il primo cittadino, uno sforzo che ha guardato in più direzioni e che oggi ci consente di raccogliere risultati importanti per la nostra comunità. A Catanzaro il ciclo di eventi in viaggio con la Banca d'Italia, incontri con i cittadini, studenti ed imprese su economia e finanza. Presente anche il governatore della Calabria Roberto Chiuto. L'iniziativa nasce proprio da questi obiettivi, quello di far conoscere la Banca d'Italia, il ruolo della Banca d'Italia, ma in questo modo contribuire anche un po' alla cultura finanziaria, perché c'è bisogno di accrescere la cultura finanziaria del Paese e noi con questa iniziativa vogliamo portare il nostro contributo, così come anche volerci avvicinare alle comunità, perché è un'iniziativa aperta alla cittadinanza, aperta al pubblico, anche per far capire che parlare di questi aspetti è importante per la vita di tutti i giorni, per la vita di tutti noi. È molto importante, io sono un estimatore della Banca d'Italia, lo ero anche quando svolgevo un'altra attività, quando stavo in Parlamento, perché la Banca d'Italia ha uno dei centri studi più importanti del Paese, ha la capacità di misurare l'impatto delle politiche pubbliche e credo che questo sia molto importante per tutti i decisori politici istituzionali. È bello vedere che ci siano tanti giovani perché i giovani devono rendersi conto di come funziona l'economia, di come siano interconnesse le variabili dell'economia reale con quella dell'economia finanziaria, come incidano per esempio i alti costi dell'energia sull'inflazione, l'inflazione sui tassi di interesse, i tassi di interesse sugli investimenti e quindi sul bilancio delle loro famiglie. È giusto che se ne abbia consapevolezza ed è bello che un'istituzione che molti vedono come distante, come la Banca d'Italia, invece si apra alla conoscenza e alla divulgazione di questi contenuti, soprattutto con tanti giovani che vedo oggi qui presenti. La Corte dei Conti ha detto sostanzialmente che c'è evidentemente un cambio di passo in molti ambiti, persino nella sanità dove ancora dobbiamo fare molto per garantire il diritto alla cura dei calabresi, ma per esempio la Corte dei Conti ha riconosciuto che la contabilità della Calabria non è più orale, come si diceva con tempo, abbiamo quantificato il debito, abbiamo dimostrato che siamo in avanzo di amministrazione, in altri ambiti abbiamo velocizzato la spesa dei fondi comunitari, del fondo di sviluppo e coesione, quando mi sono insediato c'erano circa 2 miliardi che i miei predecessori non avevano speso, fra qualche mese l'Italia saprà che la Calabria ha speso tutte le risorse degli anni passati, quindi c'è tanto lavoro e c'è anche la consapevolezza però che questo lavoro produrrà degli effetti negli anni che verranno, perché per quanto importanti possano essere gli sforzi di un governo, anche di un governo regionale, soprattutto in Calabria dove ogni anno 15 mila, 20 mila ragazzi lasciano la Calabria, si determina una situazione per la quale vanno via non solo 15 mila, 16 mila vite, speranze, pezzi di futuro, vanno via 15 mila, 20 mila pezzi di prodotto interno individuale che quindi sostanzialmente fanno diminuire costantemente il prodotto interno della regione e quindi l'intervento sui dati macroeconomici è molto più lento e si avrà davvero quando ci saranno reali possibilità per i giovani di rimanere in Calabria e di costruire in Calabria le loro occasioni di lavoro. Badolato si candida a diventare il Borgo dei Borghi 2024. L'iniziativa è stata illustrata in una conferenza stampa presso la cittadella regionale alla presenza dell'assessore regionale Gianluca Gallo. Una bella storia, 30 anni fa Badolato era un paese in vendita, oggi Badolato concorre per essere nominato tra i borghi più, il Borgo più bello d'Italia e sicuramente è tra i borghi più belli d'Italia, quindi un grande risultato e quindi anche una strada da percorrere per tanti altri borghi della nostra regione che meritano un'occasione e credo che Badolato possa insegnare tanto, ma un'azione che è finalizzata anche ad un turismo destagionalizzato che possa combinare il prodotto territorio con i prodotti del territorio e possa dare un altro modello di sviluppo ad una Calabria che ha bisogno di occasioni. Noi li sosteniamo con un'intensazione di promozione, per esempio faremo delle trasmissioni sulle reti nazionali, Geo in Geo, che saranno dedicate proprio ai borghi più belli della nostra regione per promuovere in maniera poderosa anche questa importante offerta destagionalizzata. Badolato è l'unico borgo calabrese a far parte di questa meravigliosa competizione, partecipa insieme ad altre 19 località italiane, ma appunto essendo l'unico borgo calabrese per noi è un onore rappresentarlo. Ci stiamo preparando, le votazioni sono già aperte, si può votare ogni giorno fino al 17 marzo, quindi l'appello per tutti i cittadini, tutti quelli che ci stanno seguendo di votare e sostenere Badolato, perché è un borgo meraviglioso, ricco di storia, patrimonio artistico-culturale interessante, dove l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Nicola Parretta lavora costantemente per valorizzare il borgo. Siamo qui oggi per sostenere Badolato, che fa parte dell'associazione dei borghi più belli d'Italia e nonché aderito anche all'associazione calabrese. Quest'anno a rappresentare la Calabria è Badolato nella competizione Il Borgo dei Borghi, che si tiene ogni anno nella trasmissione il Chilimangiaro. È un evento importante dove il borgo di Badolato, che rappresenta l'associazione calabrese e quella nazionale, deve avere quella visibilità, quella popolarità per promuovere, e quindi valorizzare i borghi più belli, che a rotazione ogni anno partecipano a questa competizione. Devo dire che gli ultimi anni l'associazione calabrese si sta muovendo con una serie di iniziative dove appunto stiamo lavorando per la promozione e valorizzazione dei borghi stessi. Anzi, ne approfitto per comunicarvi che quest'anno ci sarà il Festival Nazionale dei Borghi più belli d'Italia in Calabria, precisamente ad Oriolo e Rocco Imperiale. Quindi invito tutti quanti a partecipare anche a questo evento dove ci saranno tutte le regioni d'Italia con i rispettivi borghi. È un'occasione per far conoscere le nostre realtà, il nostro territorio, quindi le nostre eccellenze sia nell'ambito enogastronomico che nell'ambito turistico. Tra le mission sostenute dai Lions Club c'è quella della prevenzione contro il cancro, in particolare quello giovanile. Il Club di Catanzaro Mediterraneo ha pensato di portare avanti questo compito organizzando una mattinata presso l'Istituto Tecnico Tecnologico Ercolino Scalfaro dove si è parlato soprattutto di prevenzione. Cancro è una parola che solo pronunciarla mette paura. Non c'è famiglia che non ne abbia avuto occhiaffare coinvolgendo almeno un proprio congiunto. Si può prevenire? È possibile, a patto che si imposti il proprio vivere quotidiano in maniera sana ed attenta, evitando ciò che più di altro può favorirne l'insorgere. Si pensi ad esempio al fumo e praticando una dieta che riduca drasticamente quei cibi cosiddetti spazzatura. È possibile, soprattutto se questo vivere sano sia attuato sin da giovani. I Lions, quali componenti attivi del più importante club service a livello globale, si impegnano in questa opera di sensibilizzazione e divulgazione di una vita sana e attenta, quale prevenzione all'insorgenza del cancro. E lo fanno rivolgendosi innanzitutto ai giovani. In questo senso va l'azione del Lions Club Mediterraneo di Catanzaro, che ha realizzato una giornata informativa presso l'Istituto Tecnico Ercolino Scalfaro, grazie alla disponibilità di alcuni docenti dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, che hanno spiegato agli studenti il valore della prevenzione. Questo fa parte di una serie di eventi che stiamo portando avanti, tra cui al primo posto il cancro, perché è in grande crescita il numero degli affetti da questa patologia, e al secondo posto il diabete. Quindi i prossimi eventi saranno rivolti alla prevenzione, alla terapia del diabete in età giovanile. Oggi è la prevenzione, il dolore nelle famiglie, come migliorarli anche, e quindi la cultura, la prevenzione, affinché quest'ultima possa essere d'aiuto nella crescita dei ragazzi, nel combattere un male così terribile che accompagna questo nostro secolo e già da decenni sta ammietendo milioni di vittime. Parlare dei ragazzi è forse la prima forma di prevenzione? E' la forma più importante. E' importante che i ragazzi capiscono che noi possiamo avere un impatto in termini di prevenzione che può raggiungere il 40% per il cancro. Cioè noi possiamo abbattere del 40% l'incidenza delle neoplasie cambiando lo stile di vita. E' un messaggio essenziale, un messaggio che dobbiamo dare con forza. I giovani oggi hanno dimostrato, anche attraverso le loro domande, di avere l'idea molto più chiara di quanto noi pensiamo. I giovani hanno capito che combattere contro il cancro significa usare l'intelligenza, intelligenza che vuol dire saper fare della ricerca, saper usare le tecnologie, ma anche capire che la battaglia contro il cancro è anche una battaglia sociale, una battaglia in cui noi dobbiamo rendere il territorio adatto a questa battaglia. Io posso avere il più bello ospedale del mondo, ma se no il modo di far accedere il paziente a questo ospedale non ho realizzato nulla. Quindi il problema non è solo di bontà di struttura, ma di accessibilità alla struttura. Quindi noi purtroppo vediamo in Calabria che c'è un fortissimo ritardo, ora anche il rapporto allo Svimex ha dimostrato questo, che in quelli che sono gli screening. Gli screening sono importantissimi per ridurre la mortalità da cancro, ma sono un problema sociale. Lo screening non si fa in ospedale, si fa sul territorio e presuppone un sistema organizzativo e questo è l'elemento nel quale il Sud deve veramente crescere. Presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria un incontro con la presentazione del libro Il riflesso degli eroi. Storie di militari che hanno servito con lealtà e valore le istituzioni. Protagonista dell'evento il generale dei Carabinieri Andrea Rispoli. Siamo all'Ateneo qua a Reggio Calabria, per noi è un grande orgoglio professionale, umano e culturale essere qua, perché siamo in un tempio della cultura dove si formano i giovani, le future generazioni. Presentiamo un libro scritto a più umani, senza protagonismi, tutto viene devoluto alla nostra opera per gli orfani. Attraverso la storia dell'arma dei Carabinieri percorriamo anche tappe della storia d'Italia, dall'unità nazionale, la guerra mondiale, la lotta all'eversione, al terrorismo, il contrasto alla microcriminalità e come giustamente ha detto lei, la storia dei Carabinieri accompagna la storia d'Italia ed è fatta, come risottolino giustamente ci ha indicato e mi ha suggerito, da grandi gesta e da gesta che sembrano meno importanti. Ecco, noi abbiamo voluto dare voce a entrambe queste vocazioni. L'arma è fatta di tanta straordinaria ordinarietà che ci consente di essere rispettati e amati dal cittadino, di essere coinvolti nel processo decisionale dalle autorità, dall'autorità giudiziaria, dal prefetto, dalle varie autorità con le quali ci confrontiamo perché l'importanza è l'effettività e la concretezza del servizio. Nel nostro stemma araldico c'è scritto nei secoli fedele, lo dicevo con altri vostri colleghi, che ringrazio di dare anche visibilità a questo evento perché è importante. Ecco, nei secoli fedeli perché la fedetà alle istituzioni ci garantisce la fiducia, la fiducia del cittadino. Avere il cittadino a suo fianco penso che sia la cosa più importante. Questo libro è una piccola testimonianza, io non sono altro che il portavoce, guardi, di tante donne, di tanti uomini che ordinariamente fanno il loro lavoro e siamo qui, in questo Ateneo, un'università e quindi un luogo dove si fa anche educazione civica, senso della legalità, rispetto. Un Ateneo per richiamare, ricordare modestamente l'azione di tante donne e tanti uomini che generalmente cercano di fare il loro meglio per garantire sicurezza alla popolazione. È molto importante oggi avere questa grande possibilità qui all'Università di Reggio Calabria grazie alla dedizione, alla disponibilità estrema dell'arma dei carabinieri e di poter parlare ai nostri studenti, ai nostri giovani, al nostro territorio nella mattinata di aspetti legati al patriottismo e alla dedizione dei militari, dedizione che li ha portati nella storia alle estreme conseguenze. Ma nel pomeriggio ci sarà un importante punto della situazione sugli attacchi che la natura in Calabria subisce e soprattutto sulle procedure, le metodologie, e gli strumenti di prevenzione che tutti assieme, a partire dai carabinieri forestali, a seguire la Regione, l'Università e tutti gli altri organismi che operano sul territorio, vogliamo mettere in atto. Termina qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Grazie per essere stati con noi.